La Regione Puglia ha confermato l'impegno a rendere disponibili 11 milioni di euro che si sommano ai 2 milioni messi a disposizione dalla provincia Barletta-Andreatrani per i lavori sulla strada provinciale 2 Andrea Canosa nel tratto di accesso a Montegrosso. Con queste risorse sarà possibile procedere quindi con il progetto definitivo senza alcuna soluzione provvisoria. Nel corso dell'audizione della Quinta Commissione sullo stato dei lavori che si è tenuta alla Regione Puglia l'assessore alla visione urbana del comune di Andrea Anna Maria Curcuruto ha spiegato di aver avanzato la proposta di procedere sia con la messa in sicurezza della rotatoria esistente sia contemporaneamente di continuare con il progetto definitivo per la realizzazione delle complanari. Non c'è bisogno di distinguere i due progetti ha specificato l'assessore Curcuruto mentre si progetta, si appalta e si esegue si può mettere in sicurezza la rotatoria perché alla sicurezza non si può rinunciare. E poi ha aggiunto che al territorio di Andrea deve essere garantita la piena e ampia accessibilità al porto, alle autostrade, all'aeroporto e alle ferrovie. E mentre il consigliere regionale del PD, Filippo Caracciolo, ha chiesto di costituire una task force per dare subito avvio efficace alle operazioni, l'assessore Curcuruto ha rappresentato la necessità che il comune andriese riceva una nota specifica da parte della Regione Puglia che informi sul finanziamento reso disponibile, un atto indispensabile per approvare il progetto soprattutto in relazione alle eventuali procedure espropriative che il comune si troverà a compiere. Grazie a tutti.